San Marco, Marco Evangelista, patrono di Venezia. Secondo la tradizione le sue reliche furono trasportate nell'antichità d'Alessandria dove sarebbe morto e secondo alcuni racconti anche martirizzato e a Venezia hanno costruito quella magnifica Basilica di San Marco. Per cui dove è passata Venezia poi conquistando un po' dappertutto nel mondo mediterraneo ed è arrivata anche a Brescia trovate le insegne di San Marco che vedete qui sul frontone del nostro castello di Brescia. La scritta latina che trovate un po' dappertutto ripeto dove è arrivato il dominio di Venezia dice queste parole traduco pace a te Marco o Marco mio evangelista. Quindi riconosce l'Evangelista Marco che col Vangelo è un portatore di pace e lo stemma il leone alato, simbolo dell'Evangelista Marco. Però noi facciamo un po' come i bambini, vogliamo introdurre e proporre la lettura di questo Vangelo integrale. Allora abbiamo fatto questa scelta di leggerlo in quattro tappe calcolando che la divisione dei capitoli nel Vangelo di Marco è di 16 capitoli, è il più breve tra i quattro Vangeli canonici e dividiamo così matematicamente anche se la vera divisione del Vangelo, perché c'è una divisione, è fatta in tre momenti. Perché ci chiediamo qual è lo schema di questo Vangelo? È uno schema al tempo stesso cronologico e teologico, mi spiego subito, perché questa caratteristica è una caratteristica dei tre Vangeli sinottici, quindi di Marco, Matteo e Luca, ma anche dei quattro Vangeli, anche quello di Giovanni, che hanno una formidabile carattura di carattere teologico, un'intenzione che riguarda la fede del lettore o dei lettori. E questa intenzione è quella di descrivere il viaggio di Gesù dal padre per ritornare al padre. Dopo aver operato, potremmo dire, la duplice grande operazione del passaggio di Cristo nella vita dell'umanità e dell'uomo, che è la prima è quella di liberarlo dal male. Quindi quando c'è il male nel mondo, il Vangelo ci ricorda che c'è un vincitore del male, c'è una possibilità divina di vincere il male che è Cristo. Ma il secondo aspetto, il Vangelo non è soltanto una vittoria sul male, ma è una creazione nuova di un mondo che è creato da Dio. E quindi in Cristo c'è la vita nuova, l'uomo nuovo. Questo è lo schema teologico dei Vangeli, come ci ricorda in modo pregevole Papa Ratzinger, nel suo Gesù di Nazareth, dove dice che se non si coglie questa prospettiva i Vangeli non si leggono bene, cioè manca la loro verità. L'intenzione soprattutto dell'autore o degli autori o del redattore, vedremo questa questione, è quella di consolidare la fede dei credenti. Il Vangelo di Marco, da questo punto di vista, ripeto, risulta essere il più breve e questo spiega anche perché nel passato si preferì la lettura di Matteo, di Luca o di Giovanni rispetto a Marco. Invece negli ultimi 70, 80, gli ultimi 100 anni di ricerca esegetica è una sentenza unanime, quella di affermare che il Vangelo di Marco è in sostanza il primo Vangelo che è venuto alla luce in lingua greca, attenzione perché è un passaggio questo, e può essere stato scritto tra i 65 e i 70 da un discepolo di Pietro, e la tradizione indica Marco, anche su questa questione ritorneremo, e questo Vangelo sarebbe servito poi scritto a rinforzare, attenzione, la tradizione orale sulla vita di Cristo che domina la prima Chiesa con i testimoni oculari che sono gli apostoli e i discepoli. Voi pensate che Gesù ha costato delle folle, ha costato tantissime persone, però qualcuno ha assunto poi, grazie allo Spirito Santo, il ruolo di testimone. Testimonianza orale dalla quale poi partono le scritture su Gesù e i Vangeli non sono un progetto inizialmente, sono un risultato. Alla fine ci troviamo con questi testi di altissimo livello, all'altissima definizione, questa è la loro qualità, che li distingue anche dalla letteratura apocrifa dei secoli successivi, cioè di tutti quei Vangeli, sono innumerevoli, che parlano di Cristo, ma con un'altra caratura. Generalmente sono gruppi, sono sette, nei quali serpeggia oltre il messaggio di Cristo, anche molte volte intenzioni diverse da quelle degli apostoli, che sono i testimoni. Ecco, naturalmente io riassumo in poche parole il risultato di studi plurisecolari, soprattutto studi critici a partire dal XVIII secolo. Allora vediamo il Vangelo di Marco, noi lo divisiamo in quattro capitoli, sebbene in realtà sia diviso in tre parti. Il primo, la prima parte, dopo il battesimo di Gesù al Giordano, la prima parte si interessa di quello che Gesù ha fatto in Galilea. Quindi la prima grande missione di evangelizzazione, l'annuncio del Regno. Questa parte arriva fino al capitolo ottavo, cioè fino al momento in cui, al capitolo nove, Gesù pone la domanda al Cesarea di Filippo, chi dice alla gente che io sia? E Pietro infallibilmente risponde, tu sei il Cristo. Abbiamo l'edizione di Matteo arricchita, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, con il primato di Pietro. Questo punto, riconoscimento da parte di Pietro, viene considerato il punto di svolta della missione di Cristo, perché da quel momento il viaggio da Cesarea di Filippo, che è a nord della Palestina, va verso Gerusalemme. Quindi la seconda parte racconta di questo viaggio del Cristo, del Signore, che va verso Gerusalemme, avvertendo anche i suoi discepoli di quello che gli capiterà, di quello che sta per avvenire. E questa parte arriva fino a Gerico. Ecco, chi è stato in Palestina sa che a Gerico si trova sotto il livello del mare, scendendo la valle del Giordano da nord, e poi da lì ci si inerpica, i pellegrini prendono la salita, e sono circa mille metri di dislivello, perché da sotto il livello del mare si sale a 700 metri. Se arrivi al Monte degli Ulivi e ti trovi davanti la città santa, devi scendere la valle del Cedron e entrare nella città. Ecco, quindi la seconda parte è questa. La terza parte, naturalmente, sono gli eventi di Gerusalemme, e gli eventi di Gerusalemme sappiamo molto bene che riguardano la passione, la morte e la risurrezione soprattutto di Gesù, che è la parte dei racconti dei Vangeli, che secondo gli esigenti, ma anche secondo il lettore normale, è la parte principale dei Vangeli, la più consistente, la più analitica. Eppure avendo quattro narrazioni, non riusciamo a decidere di fare a meno di una di queste narrazioni, perché si completano e non ci sono le contraddizioni che invece i critici malevoli vogliono trovare sempre per mettere in difficoltà. I critici malevoli mettono in risalto le incongruenze dei testi che si spiegano, secondo me, abbastanza bene, dipende dallo stato d'animo, dall'intenzione con cui si legge, e soprattutto esiste una fitta letteratura, soprattutto anglosassone, che ha come fondamento la fantasia e l'ignoranza, che continua a popolare questo mondo della verità evangelica con ipotesi e con ricerche di manoscritti, con l'idea che la Chiesa sia il luogo dove si nascondono le cose. Ecco, questo è un tipico complesso, oserei dire anche un po' nordico, nei confronti della Chiesa cattolica. Però non è questo l'argomento. Allora vediamo i primi quattro capitoli, i contenuti. Quindi sappiate che i primi quattro capitoli in realtà sono la parte della prima parte degli otto capitoli, della prima parte del Vangelo. E vediamo i contenuti. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come è scritto nel profeta Esaia, Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà alla strada. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico e predicava Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba e si sentì una voce dal cielo Tu sei il figlio mio prediletto in te mi sono compiaciuto. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva Il tempo è compiuto il regno di Dio è vicino convertitevi e credete al Vangelo. Passando lungo il mare della Galilea vide Simone e Andrea fratello di Simone mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro Seguitemi vi farò diventare pescatori di uomini e subito lasciate le reti lo seguirno. Andando un poco oltre vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. Li chiamò ed essi lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni lo seguirno. Andarono a Cafarnao e entrato proprio di sabato nella sinagoga Gesù si mise a insegnare ed erano stupiti del suo insegnamento perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli iscrivi. Allora un uomo che era nella sinagoga posseduto da uno spirito immondo si mise a gridare Che c'entri con noi Gesù Nazareno sei venuto a rovinarci io so chi tu sei il Santo di Dio e Gesù lo sgridò Taci esci esci da quell'uomo e lo spirito immondo straziandolo e gridando forte uscì da lui. Tutti furono presi da timore tanto che si chiedevano a vicenda che è mai questo una dottrina nuova insegnata con autorità comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono. la sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea e usciti dalla sinagoga si recarno subito in casa di Simone e di Andrea in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli accostatosi la sollevò prendendola per mano. la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Venne la sera dopo il tramonto del sole gli portarono tutti i malati e gli indemoniati tutta la città era riunita davanti alla porta guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino si alzò quando ancora era buio e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e là pregava ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e trovato gli dissero tutti ti cercano e gli disse loro andiamoce ne altrove per il villaggio vicini perché io predichi anche là per questo infatti sono venuto e andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoge e scacciando i demoni. allora venne a lui un lebroso lo supplicava in ginocchio e gli diceva se vuoi puoi guarirmi mosso a compassione stese la mano lo toccò e gli disse lo voglio guarisci subito la lebra scomparve ed egli guarì e ammonendolo severamente lo rimandò e gli disse guarda di non dire niente a nessuno ma va presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato a testimonianza per loro ma quegli allontanatosi cominciò a proclamare a divulgare il fatto al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città ma se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte ed entrò di nuovo a Cafarno dopo alcuni giorni si seppe che era in casa e si radunarono tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta ed egli annunciava a loro la parola si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e fatta un'apertura calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico Gesù vista la loro fede disse al paralitico figliuolo ti sono rimessi i tuoi peccati seduti là erano alcuni scrivi che pensavano in cuor loro perché costui parla così bestemmia chi può rimettere i peccati se non Dio solo ma Gesù avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé disse loro perché pensate così nei vostri cuori che cosa è più facile dire al paralitico ti sono rimessi peccati o dire alzati prendi il tuo lettuccio e cammina ora perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati ti ordino disse al paralitico alzati prendi il tuo lettuccio e va a casa tua quegli si alzò prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo non abbiamo mai visto nulla di simile uscì di nuovo lungo il mare tutta la folla veniva lui ed egli li ammaestrava nel passare vide Levi il figlio del Feo seduto al banco delle imposte e gli disse seguimi egli alzatosi lo seguì mentre Gesù stava a mensa in casa di lui molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli erano molti infatti quelli che lo seguivano allora gli iscrivi della setta dei farisei vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani dicevano ai suoi discepoli come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori avendo udito questo Gesù disse loro non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati non sono venuto per chiamare i giusti ma i peccatori ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno si recarno allora da Gesù e gli dissero perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano Gesù disse loro possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo spose con loro finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare ma verranno giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio altrimenti il rattoppo nuovo squarce il vecchio e si trova uno strappo peggiore e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri ma vino nuovo in otri nuovi in un giorno di sabato Gesù passava per i campi di grano e i discepoli camminando cominciarono a strappare le spighe i farisei gli dissero vedi perché si fanno di sabato quello che non è permesso ma egli rispose loro non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame lui e i suoi compagni come entrò nella casa di Dio sotto il sommo sacerdote a Biatar e mangiò i pani dell'offerta che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare e ne diede anche i suoi compagni e diceva loro il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato entrò di nuovo nella sinagoga c'era un uomo che aveva una mano inaridita e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo egli disse all'uomo che aveva la mano inaridita mettiti nel mezzo poi domandò loro è lecito in giorno di sabato fare il bene o il male salvare una vita o toglierla ma essi tacevano e guardandoli tutti intorno con indignazione rattristato per la durezza dei loro cuori disse a quell'uomo stendi la mano la stese e la sua mano fu risanata e i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla Galilea dalla Giudea da Gerusalemme e dall'Indumea e dalla Trasgondania e dalle parti di Tirsidone una gran folla sentendo ciò che faceva si recò da lui allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero infatti ne aveva guariti molti così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo gli spiriti immondi quando lo vedevano gli si gettavano ai piedi gridando tu sei il figlio di Dio ma egli gli sgridava severamente perché non lo manifestassero salì poi sul monte chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono con lui ne costituì dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni costituì dunque i dodici Simone al quale impose il nome di Pietro poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni fratello di Giacomo ai quali diede il nome di Buonarches cioè figli del tuono e Andrea Filippo Bartolomeo Matteo Tommaso Giacomo di Alfeo Taddeus Simone il Cananeo e Giude Iscariota quello che poi lo tradì entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui in molta folla al punto che non potevano neppure prender cibo allora i suoi sentito questo uscirono per andare a prenderlo poiché dicevano è fuori di sé ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano costui è posseduto da Belzebù e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni ma egli chiamatili diceva loro in parabole come può Satana scacciare Satana se un regno è diviso in sé stesso quel regno non può reggersi se una casa è divisa in sé stessa quella casa non può reggersi alla stessa maniera se Satana si ribella contro sé stesso ed è diviso non può resistere ma sta per finire nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte allora ne saccheggerà la casa in verità vi dico tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno ma chi avrà bestemmiato contro lo spirito santo non avrà perdono in eterno sarà reo di colpa eterna poiché dicevano è posseduto da uno spirito immondo giunsero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori lo mandarono a chiamare tutto attorno era seduta la folla e gli dissero ecco tua madre i tuoi fratelli le tue sorelle sono fuori e ti cercano ma egli rispose loro chi è mia madre e chi sono i miei fratelli girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno disse ecco mia madre e i miei fratelli chi compie la volontà di Dio costui è mio fratello sorella e madre di nuovo si misa a insegnare lungo il mare e si riunì attorno a lui una folla enorme tanto che egli salì su una barca e la restò seduto stando in mare mentre la folla era a terra lungo la riva insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento ascoltate ecco uscì il seminatore a seminare mentre seminava una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono un'altra cade tra i sassi dove non c'era molta terra e subito spuntò perché non c'era un terreno profondo ma quando si levò il sole restò bruciata e non avendo radice si seccò un'altra cade tra le spine le spine crebbero la soffocarono e non diede frutto e un'altra cade sulla terra buona diede frutto che venne su e crebbe e rese ora il trenta ora il sessanta e ora il cento per uno e diceva chi ha orecchi per intendere intenda quando poi fu solo i suoi insieme ai dodici lo interrogavano sulle parabole ed egli disse loro a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole perché guardino e non vedano ascoltino ma non intendano perché non si convertano e venga loro perdonato continuò dicendo loro se non comprendete questa parabola come potrete capire tutte le altre parabole il seminatore semina la parola quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola ma quando ascoltano subito viene satana e porta via la parola seminata in loro similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che quando ascoltano la parola subito la colgono con gioia ma non hanno radice in se stessi sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola subito si abbattono altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine sono coloro che hanno ascoltato la parola ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie soffocano la parola e questa rimane senza frutto quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono sono coloro che ascoltano la parola l'accolgono e portano frutto nella misura a chi del 30 chi del 60 chi del 100 per uno diceva loro si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto o piuttosto per metterla sull'ucerniere non c'è nulla infatti di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba essere messo in luce se uno ha orecchi per intendere intenda diceva loro fate attenzione a quello che udite con la stessa misura con la quale misurate sarete misurati anche voi anzi vi sarà dato di più poiché a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha diceva il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra dorma o vegli di notte o di giorno il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo poi la spiga poi il chicco pieno nella spiga quando il frutto è pronto subito si mette mano alla falce perché è venuta la mia titura diceva a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo esso è come un granellino di senapa che quando viene seminato per terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra ma appena seminato cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e farami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere senza parabole non parlava loro ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa in quel medesimo giorno verso sera disse loro passiamo all'altra riva e lasciata la folla lo presero con sé così come era nella barca c'erano anche altre barche con lui nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca tanto che ormai era piena egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva allora lo svegliarono e gli dissero maestro non ti importa che moriamo destatosi sgridò il vento e disse al mare taci calmati il vento cessò e vi fu grande bonaccia poi disse loro perché siete così paurosi non avete ancora fede e furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono il vento Grazie a tutti